Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, questa mattina del 12 aprile la zuppa di porro parte ovviamente con la notizia sulla quale aprono tutti quanti i giornali, che è una notizia di tipo economico, mettiamola così, grande scoperta dei giornali ma soprattutto dell'Ox, che è l'organizzazione dei paesi sviluppati, che fa grandi ricerche sull'economia dei paesi sviluppati, che cosa scopre l'Ox? Che in Italia c'è un cuneo fiscale, c'è una differenza tra quanto pagano gli imprenditori e quanto incassano i loro lavoratori, che è tra le più alte dei paesi sviluppati. In realtà è un po' più alta della Francia, è un po' più bassa della Germania e quindi siamo nella linea di questa follia dei paesi occidentali per cui in realtà il costo del lavoro è talmente alto che anche un bambino piccolo fa questo ragionamento, ma se costa così tanto il lavoro è disincentivato il lavoro. Il vero tema è che quando si parla vogliamo aiutare più deboli, vogliamo fare la sanità pubblica, vogliamo che i mezzi pubblici costano di meno, vogliamo tutto il nostro sistema del welfare costa e a chi lo facciamo pagare? Ovviamente ai lavoratori e questo che cosa comporta? Che siamo tutti diciamo lavoratori spennati perché in realtà lo Stato ci restituisce questi soldi attraverso servizi pubblici che magari noi non desideriamo. Insomma è una follia che negli ultimi 50 anni ha fatto diventare il nostro welfare state sempre più ingombrante e quindi il nostro cuneo fiscale sempre più ampio. Vabbè e questa è una vecchia questione, direi che non è commentata così dai giornali di oggi, ma vi mettono in maniera drammatica l'aumento del cuneo fiscale come se fosse colpa di questo governo. Questo governo di colpe ne ha tante, ma evidentemente quella del cuneo fiscale, a parte quel pazzo di Tridico che lo vorrebbe aumentare consulente di Di Maio, insomma ancora non ha avuto tempo per aumentarlo. Devo dire che gli 80 euro di Renzi, se vogliamo proprio fare i pignoli, sono quelli che invece lo hanno abbattuto perché ovviamente con quel bonus fiscale quello che entra in tasca ai lavoratori anche se di poco è aumentato. Sul documento economico e finanziario ragazzi non è che c'è molto da dire se non i numeri che hanno pubblicato oggi sono le 24 ore, sono le tabelle. Quanto ci costerà di interessi di più il nostro debito pubblico nei prossimi tre anni? 17 miliardi di euro in più. Arriverà a 75 miliardi il costo del nostro mutuo pubblico. Insomma questi sono soldi che vanno via dalle risorse private e vanno a servizio di un debito che non stiamo diminuendo. Quota 100 da sola ci costerà 8 miliardi e mezzo in più quest'anno e 10 il prossimo. Quindi quando noi ragioniamo sempre bene o male una certa misura di assistenza cerchiamo sempre di capire che queste minuti di assistenza costano e per farle costare non è che arrivano da babbo natale questi soldi, vengono presi esattamente dal cuneo fiscale cioè dalle tasse sui lavoratori che verranno sempre più alte. Il ministro Tria concede un'intervista a Osvaldo De Paolini oggi sul messaggero e tira fuori dal cappello 85 miliardi di euro che potrebbero essere investiti in opere pubbliche. Lo si tiene troppe volte questi soldi, 50 miliardi, 100 miliardi, 400 miliardi. Questo è un paese in cui non si riesce a fare nulla perché chiunque si permetta di fare qualche cosa poi va in galera. Ovviamente con il plauso dei Grillozzi e del Fatto e dei Moralisti, del Corriere della Sera, dei Rizzo, degli Stella, tutti ladri in questo paese. E siccome siamo tutti ladri in questo paese, ieri ero a un convegno importante della Confartigianato e mi hanno detto gli amici artigiani, gli hanno detto investire senza fare tutto il codice degli appalti, senza fare tutte quelle minchiate là. Per altro cosa molto criticata da Repubblica e da alcune parti dei Grillozzi perché dicono eh così faranno un sacco di favori nei comuni. Poi dopo questi degli artigiani mi hanno spiegato Anicom, ma ancora ci credi a questa roba? Eh perché sì, ancora ci credo. Sapete perché è falso? Perché lo Stato ha dato la legge, cioè voi potete fare dei piccoli appalti fino a due, trecento, quattrocento mila euro senza fare gare pubbliche ma chiedendo solo tre preventivi. Ha dato pure dei soldi per fare gli appalti ma non ci sarà mai un segretario comunale, mi hanno detto questi artigiani, che si assumerà la responsabilità di far partire dei lavori senza essere col culetto parato che non vada in galera per una sua scelta eventualmente arbitraria. Quindi i ladri continueranno a fare i ladri come lo facevano prima e i pavidi continueranno a non fare investire nulla perché si prenderanno lo stipendio alla fine del mese e pensano che sarà meglio per loro dormire sonni tranquilli e non fare investimenti. A questo siamo arrivati. Gli sgravi fiscali oggi li leggo sul quotidiano nazionale, sapete su cosa arriveranno? Arriveranno per gli obesi. Gli obesi potranno avere degli sgravi fiscali secondo una indiscrizione che dice il quotidiano nazionale che riguarda il Ministero della Salute in termini di minori tasse pagate se si iscrivono alla palestra eccetera. Bisogna stabilire a quanti chili si diventa obesi posto per altezza. Comunque fantastica l'idea che abbiamo un po' di sgravi fiscali per gli obesi. Fantastico il titolo di libero di pagina 2 che riguarda la follia, l'ultima follia della Confindustria. Questi della Confindustria, voglio dire, bisognerebbe intanto togliergli la carta di credito pagata dai contribuenti di Confindustria, cioè degli associati, perché quando entri nel palazzetto della Confindustria la prima cosa che ti fanno è che ti danno la macchina e la carta di credito, che è una cosa normale per chi è un'azienda grande, di belle dimensioni eccetera, se non che dove rendi contare. Ma il punto è che in genere arrivano ai vertici della Confindustria gente che non si potrebbe permettere nulla togliendo a loro, neanche una segretaria. Arrivano là e hanno ufficio, segretaria, vedono ministri, carte di credito che spendono 20.000 euro al mese, 20.000 euro al mese perché devono fare i giri internazionali come ha fatto una vicepresidente della Confindustria. E poi dopo che cosa fanno? Fanno le manifestazioni qua della Confindustria a Milano, vedono Di Maio e all'uscita di Maio dicono uno di noi. Beh è fantastico quindi il titolo di Libero che devo dire sintetizza tutto, ormai Confindustria ha perso la boccia giocando sul nome del suo presidente che è Boccia. Non so se ha perso la boccia ma so quello che ha scritto Dario Di Vico oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera che in maniera incredibile bacchetta la Confindustria su questa sua gigantesca incoerenza. Sempre coerente nella difesa del Movimento 5 Stelle oggi Travaglio che ci spiega prendendo un po' in giro i talk show e le obiezioni che si fanno al reddito di cittadinanza dice ragazzi prendete sempre in giro questo reddito di cittadinanza che invece è una cosa fantastica. Ma una cosa nella sua costruzione Travaglio dimentica che prendendo in giro tutti quelli che criticano il reddito di cittadinanza perché è troppo duro, perché c'è paletti troppo difficile, perché incentiva il nero, perché va il sud eccetera, alla fine si dimentica di dire la cosa fondamentale e cioè che tutti i suoi ragionamenti pseudo economici sono soltanto minchiate chiaramente però vanno a sbattere con il pregiudizio che hanno quelli del Movimento 5 Stelle rispetto ai numeri. E cioè in quella frase favolosa del Vice Ministro dell'Economia che a Padoan disse sullo spread, cioè aumentano gli interessi, ci arriva anche una specie di minus abens su questa banalità perché ovviamente prima o poi questa curva di tassi aumenta se aumenta lo spread, beh insomma la battuta della Castelli era questo lo dice lei rispetto a Padoan, ecco questo lo dice lei se l'è dimenticato Travaglio. Assange, altro grande tema di giornata è stato arrestato e prelevato dalla sua esilio nella ambasciata equadoregna di Londra perché l'Equador non lo salva più, il fondatore di Wikileaks viveva lì dal 2012 cioè da sei anni, per Dibba è una patriota dell'umanità, un difensore dei segreti, della democrazia e della libertà, è ritornato a parlare Dibba, se ne sentiva la mancanza, per il fatto sgominato il nemico numero uno dei potenti, fantastica questa cosa, sostanzialmente io forse condividerei un po' di più con il giornale ladro e spia non eroe, è un personaggio che non si può definire semplicemente come dice il fatto il dibattista, il nemico numero uno dei potenti, è uno che rubava i segreti e i potenti, questo è fuori di dubbio, però insomma c'è anche modo di farlo. Sulla guerra in Libia l'ultimo tema è la Repubblica in questi giorni e forse quella che ci sta dando le lezioni in questo molto buone perché ieri aveva spiegato il piano segreto dell'Italia di ritornare a trattare sulla questione libica, oggi invece la Repubblica a tutta pagina ci dice una cosa incredibile e cioè che il figlio di Aftar, il generale che è Pnarr, sembra la battuta di Aldo, Giovanni Giacomo, ma Aftar è il generale che sta cercando di occupare militarmente Tripoli, dove c'è Serrai che invece è l'unico che è riconosciuto dall'ONU, insomma questo qua sta cercando di attaccare, prima di attaccare, prima di fare questo colpo di Stato era andato con il suo Falcon a Parigi, anzi il figlio era andato a Parigi a chiedere insomma un sostanziale via libera alla guerra e Salvini si è un po' seccato perché dice insomma quelli che giocano a fare la guerra era già mi sembra che una grande minchiata l'hanno fatta nel far cadere in quella maniera Gheddafi. Sul mio sito nicolaporro.it la mia risposta alla murgia che ha detto che sono disonesto intellettualmente, un bellissimo approfondimento su quello che ha detto Papa Ratzinger di cui oggi parlano tutti quanti i giornali e tra pochissimo leggetevi Gervasoni che sul sito nicolaporro.it vi dice la follia della questione, della critica del PD sulla combattere l'immigrazione clandestina con un pezzo che parte da Lecco ma finisce nelle nostre teste. A tra pochissimo quindi sul sito nicolaporro.it saluto agli amici di Instagram e alle storie di Instagram e un saluto anche agli amici di Facebook per questa zuppa di oggi. Ciao!